Dov'è sto spawner, no, pure i blocchi no, cazzo, no, no, i blocchi no, i blocchi no, ma quanti ce n'è? Sono in basso da Silverfish! Dopo una lunga, anzi, lunghissima nuotata, beh, lunghissima non tanto, perché per strada, sapete, nelle barchette che erano lì, messe nel fiume, dentro c'era una cesta. Una cesta con barche, delle barche e anche due o tre bottiglie di esperienza e due saplings, poca roba. Ora ho preso un paio di biscotti, la glowstone l'unica cosa di luce che potrò... Ah, fangool, mi intrappetta sempre quelle parole. La glowstone l'unico blocco di luce, fonte di luce che ho per ora, ho preso una ascia, cacchio, devo prendere un piccone, è perché la roba sarà despawnata, perché, perché sì, ho chiuso Minecraft, quindi sarà despawnata di sicuro. Allora, 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 prendiamo un picconcello e torniamo giù di là. Ok, piccone, no, non quello distrutto, per favore. Ma poteva fare un po' più largo questo soffitto, che cacchio, impossibile, che devo saltare e cadere giù in acqua. Allora, siamo morti già due volte, non è una bella... Perché i creeper qua? Cazzo! È rischioso. È rischioso, non c'è neanche l'armor, tra l'altro. Veramente, veramente molto rischioso. Meno male che qua, già prima avevo illuminato. Devo cercare di correre il meno possibile. Aia. Allora, qua posso raccoglierle la legna. Se diciamo qua, legna e terra, posso prenderne. Quindi... Quindi posso usare la legna e la terra per fare... Beh, la terra per la farm più grande, la legna, ovviamente, per... Sento di zombie. Per... Come cacchio mi viene in mente? La legna per gli utensili, no? Per altre cose varie. Oh, la mia roba c'è ancora! Grandioso! Grandioso! Ma qua c'è una torcia. Quindi, allora, questa roba è mia roba, c'è ancora. Distruggiamo questo. Qua avevo messo qualcosa, quindi ci mettiamo questo, questo e questo. Posiamo questo, questo, questo. Posiamo... I blocchi non ci servono. Le torce ci servono. Posiamo queste. Meglio il pane. Teniamoci anche questi. Ok. Praticamente abbiamo tutto quello che è utile, più o meno. Aspettate un attimo che... Prima sono spawnati dei mob qua. È cosa che non voglio. Quindi illuminiamo per sicurezza. Ora torniamo giù. Ah no, però ho fatto... Che cazzo è? Che cazzo... Ah già, passano in quelli piccoli. Allora, ho bloccato tutte le uscite, più o meno. Ho bloccato più o meno. Illuminiamo di qua. Andiamo prima da questa parte. What the fuck? Spawno uno zombie con le spade. Ma droppamela la spade ogni tanto. No, mi serve e non la droppi? Mi serve e non la droppi? Ok. No, illuminiamo di qua perché... Ora ho visto una porta. Vabbè. Ma qua ha il buco che ho fatto prima. Quindi ora, per evitare la morte istantanea, facciamo una seconda... Una porta un po' più alta. Direi che ho fatto molto bene. Ma perché gli scheletri? Perché devono spawnare gli scheletri? Nel CTM forse è il mob più odioso che ci possa essere. No, gli scheletri no. Gli scheletri no. Gli scheletri no. Gli scheletri no. Non ne voglio gli scheletri! Dov'è? Dov'è? Dov'è lo spawnano? Dov'è? Rompi tutto. Zombie spavano lo scheletri. Ma dov'è lo spawnano gli scheletri? Voglio sapere io. Qua sotto. E' qua sotto. E prendi l'ascia. No, non è qua. Qua c'è qualcosa? Niente. Ah, ecco. Eccolo, spawnano gli scheletri. Eccolo, bastiardone. Ok, dei blocchi. Pesce. Carbone che è forse l'elemento più utile che ci possa dare. Perché le torce sono fondamentali. E noi non le abbiamo. C'è un altro cesto. E birra, da una vista. Più senti silverfish nell'altra zona. TNT. Vabbè. Questo lo mettiamo lì. Così. Controlliamo un cartello. Inutile. Ok, ben controllato le cesti. Qua possiamo pure rompere. Però riblochiamo per sicurezza. Siamo previdenti. Meglio essere previdenti. No, ragazzi? Corro fino laggiù a bloccare quest'uscita. Tac. Ok. Ora non lo spawnerà più nessuno. E dobbiamo entrare qua dentro. Sento già un casino, ragazzi. Sento già un casino di... Perché gli scheletri sempre? Fatevi spazio, poverino. Volevi morire per primo. Non è possibile. È morto o no? Ah, è morto perché un zombie l'ho ucciso. Grande zombie. TBB. Guardate il silverfish qua dietro. Tac. Ah, no. Uh, ferro. Grandioso. Ah, ah, ah. C'è qual quadra che non cosa? Ah, c'è... Una stanza... Oh, no! Silverfish! Non è la stanza segreta. È la stanza dovevo prima. Che pirna oro. Cazzo. Ma è la stanza segreta? No, no. Muori. Devo ancora cambiare la frase al telefono. Calmi. Calmi. Ragni volati. Ma perché spavano lo silverfish? Ok, mi ha fatto la strada almeno quello. Ma quanti ce n'è? Quanti ce n'è? Morite. Morite, morite, morite. Ma fammi andare a prendere quelle due chest. Sì, è una stanza segreta quella. Perché ci sono silverfish ovunque. Dov'è che mi colpiscono? Guarda che si va a nascondere. Dov'è? Basta! Basta, ragazzi, silverfish. Basta. Inizio a odiarli più degli scheletri. Guarda, dov'è sto spawner? Dov'è? No. Pur i blocchi no, cazzo. No, no. I blocchi no. I blocchi no. Ma quanti ce n'è? Sono invasso da silverfish. Sono invasso da silverfish. Quanti ce n'è? Oddio, 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 muoio. Oddio, oddio. Oddio, non devo morire dai silverfish. No, 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 no. Non posso. Guardate quanti ce n'è. Ma è assurdo. È assurdo. Non può. Ma stanno morendo da soli? Spero che muoiono da soli. Hanno fatto un buco di là. Non le posso neanche ammazzare. Dai, morite. Vabbè. Ragazzi, sapete, vi dico, faccio un bel ponticello sospeso. E fuck the bitch silverfish. Oh, yeah. All'espounder, guarda dove sono. Che stronzo. Che stronzo che... Dammi carbone. Di là cosa c'è? Carbone per me. Ho una spada, un po' di... La spada giusto che mi serviva. Che l'ho finita. Poi mi servono... Quella... Quanta roba... Bella roba che c'è qua dentro. Due... No, questo torna lì. Però voglio distruggere quei spagna là sotto. Porcaccia la miseriaccia. Non ci arrivo. Ok. Ora ci arrivo. Perché... Sono odiosi. Odiosi, sti... Cazzo di topi, topi... Sembrano dei topi, veramente. No, questa è vuota. Questa devo prendere. Eh, è vuota. Ora, su questo cazzo che... Che torno da qui. Ma ce n'è altri fuori. E ce n'è altri fuori. Ma crepa? Allora. What the fuck? Chiedami il bro dell'occhio. Ok. Ho buttato fuori qualcosa. Ragni? Dove sbuccono sti ragni? Ragazzi, mi sbuccono mob ovunque. Pausa. Dammi questo. È questo. Ok. C'è un armor un po' più decente. Silver fish da qua. Sono usciti fuori. Ma cos'è? Ah, c'è uno spawnare di ragni qua sotto. Eh, infatti. Perché spawnare così da nulla ragni? Non è molto normale. Allora. C'è una porta di qua. Sì. Useremo sempre lo stesso metodo. Ovvero. Piazziamo un blocco. Saliamo. E rompiamo l'altro. Perché? Sento sto casino di zombie. Mostri ovunque. Everywhere proprio. Basta che non ci siano silver fish e poi sono contento. Muori. 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 Basta. Basta zombie. Basta. Non entrate più. Ok. Qua ci siamo messi abbastanza al secure. Allora. Prendiamo questo. 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 Abbiamo le torce. Oh. Questa. Blast protection. Mettiamo questa. E' più questa. Madò. Siamo già avanti. Siamo già avanti. Qua non ci sono spawner? Ah. Ecco. C'è uno spawner. Mi sembrava strano. Non ci fosse lo spawner. Eh. Dico io. Qua dentro. Ah. Questa l'ho già aperta. Qua è vuoto. Qua è vuoto. Qua ci sarà un altro spawner. Per forza. No. Niente. Strano. Strano. Molto strano. What the fuck? Quanti ce n'è? E' uno scheletro. C'è sempre lo scheletro di mezzo. Ammazzatevi tutti. Scheletro che è pure sparito. Eccolo. Ok. E' un altro. Ma fatemi piazzare delle torce almeno. Ma c'è una porta di lì. Una patata. Grandioso. Una patata. Una patata. Oh. Non correre così tanto. Vengo da dopo. Da voi. Che cazzo muori. Pericolosissimi. Pericolosissimo. Silverfish. Silverfish. No. Grazie per la visione!